altra star schifosa schifo cominciamo bene 200 già di questi altra star super rara vabbè dai non ci possiamo lamentare abbiamo sbloccato il nuovo brawler stagione terminata questo sapete cosa vuol dire che inizia la nuova stagione abbiamo siamo arrivati di nuovo in lega diamante come nella scorsa stagione ora è arrivato spongebob infatti c'è il tema spongebob abbiamo già una star epica questa cazzo di musichetta ogni volta ora devo sentire ogni volta che gioco vabbè vabbè allora allora andiamo a fare subito la classificata oppure non lo so perché ora la classificata ricominciamo da capo giustamente c'è la nuova stagione accelerazione in divisione ok andiamo a fare la classificata allora se è così ok football già cominciamo con il cazzo football è un evento che non mi piace io continuo la striscia gelina anche in una nuova stagione eccoci qua andiamo a vincere subito subito questa partita per poco non lo uccidevo però già hariii ha segnato non te preoccupava io c'è sta hariii oh c'è sta hariii ehi io me ne sto andando eh io dai arax 2-0 subito vabbè lega bronzo star di cacca come si gioca all'evento di spongebob accumula verdoni e usa l'inecrustic rub ma che cosa sono gratis queste cose qua che cazzo hanno aggiunto i dollari che cosa sono queste cose qua i dollari hanno messo evento spongebob che cazzo gratuita andiamo a prendere un panino vabbè io non capisco ragazzi ah con queste cose puoi shoppare praticamente con i dollari vabbè io non ho capito cosa si fa però per accumulare i dollari vabbè k o ovviamente io continuo la striscia gelindo gelindo a vita sceglierà se mi fa vincere andiamo a k oare tutti a partire da questa qua abbiamo già vinto così random vabbè vai così dai 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 che ci diamo tutti dai i bambini del cazzo qua vittoria super easy rapina gelindo andiamo a vincere pure questo dai 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 cazzo cazzo la pitch qua meno male che non attaccano meno male che sono deficienti dai dai adesso vado ad attaccare io in teoria dovremmo vingerla siamo troppo forti così easy super easy magari troppo eh di nuovo rapina due volte di fila vabbè vabbè io continuo con il mio gelindo qua scontro terminato manco letto come si chiama abbandonato la partita vabbè k o dai molto meglio di rapina comunque i brawler inutile che ve lo dico già lo sapete attenzione perché qua già è più dura con questi brawler qua l'hanno distrutto perfetto perfetto dai cazzo 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 per poco per poco come mi sono salvato non lo so nemmeno io dai manca solo quello uccidiamolo dai non puoi niente contro 3 abbiamo vinto il primo round ora c'è il secondo però allora dobbiamo stare attenti perché io già l'ho visto questo qua che si mette nell'erba si mette nell'erba cercava di fottermi eh eccolo lì e lì e lì e lì mi ha ucciso alla fine mi ha ucciso lo stesso state attenti raga dai che siete forti dai che siete forti dai che lo uccidi dai si brevissimo brevissimo dai 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 manca solo quello manca solo quello dai dai uccidilo perfetto abbiamo vinto la partita siamo già in bronzo 2 ma questo ovviamente non è niente di eclatante star epica footbrawl andiamoci a prendere il nostro già lo sapete già lo sapete attenzione quello quello che abbiamo squadra è in lega quella massima lì incredibile raga incredibile cosa è capitato oggi come fa a giocare con noi ci ha ucciso e meno male che era in lega massima meno male immaginate se era in lega bronzo pure perca puttana raga incredibile incredibile no la palla devi spazzare meno male che sono morte tutte e due meno male meno male vediamo se riesco a tirare no me l'ha parata me l'ha parata cazzo eh porca puttana però niente da fare niente da fare mi sa che stessa partita la perdiamo però ma va a passare la palla a quello io non ci voglio crede mi ha ucciso mi ha ucciso per poco per poco ce la facevo l'ho presa la palla l'ho presa c'ero di fanculo fanculo porca puttana prendi come l'ha presa sulla linea sulla linea no 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 attenzione andiamo ad attaccare andiamo ad attaccare dai ormai persa ormai persa peccato peccato dominio cominciamo così la nuova stagione dominando le vostre già sapete cosa ragazzi vabbè io cambio brawler dai io cambio brawler chi posso mettere? il gattino vorrei mettere io ma dov'è? dove sta? ah non si può mettere vabbè mi hanno consigliato questo mettiamo questo ora non so cosa succede io comincio così eh lanciando queste bombe così a cazzo cazzo mi ha ucciso tutte e due sono morti vabbè che coglioni però va coglioni di merda coglioni di merda andatelo a ammazzare a questo qua hanno vinto praticamente tutto campo libero ucciso ucciso come cazzo fai così? come fai? che poi mi hanno consigliato un prole di merda mi hanno consigliato la merda proprio come perdere partite mi hanno consigliato qua lurido svergognato schifoso ucciso porca di quella puttana di merda poi siamo ritornati in bronzo 1 ma non ci voglio manco credere ragazzi non ci voglio credere non ci voglio credere ho andato a fare il culo con gli altri broder ah io mi prendo gelinto di quanto è vero Dio scorda di mannaglio di merda vabbè allora questo qua con il pangogino già mi sta sul cazzo vaffanculo va pure te mi sei sul cazzo vai l'ho ucciso però dai dai primo round vai andato e il primo è andato e il secondo e il terzo sono andati pure cap out vai vai siamo in bronzo 3 non poterci i coglioni va so so when we saw the positivity I feel like we all just hate on everything is killing me thoughts build quick causing different possibilities then get if thoughts will cause different disabilities so do better work hard under pressure if you got no time work smarter than never don't ever let them tell you that you can never say never and turn your mind into the truest to go getters never stop forget it if i want it gotta make to myself a promise i won't quit keep going till i got it i won't give up till i'm on top thank you thank you so i i i i i i i